L'uso del CRM. Utilizzi un software CRM? Utilizzi un tool nel quale monitori l'attività della tua rete di vendita? Nelle PMI penso che sotto il 5% sia un numero adeguato, non una statistica esatta, la produrremo, faremo delle ricerche, ma la percentuale di piccole e medie imprese italiane che utilizzano in maniera sistemica un software CRM è veramente irrisoria. E il CRM è uno strumento estremamente importante perché se tu devi fare direzione commerciale, se tu devi fare un'azione sistemica di vendita, devi avere i dati, devi avere i numeri e soprattutto li devi avere in tempo reale. Non puoi fare le riunioni con i tuoi agenti o con i tuoi consulenti commerciali al lunedì o all'inizio del mese e avere il report su carta da formaggio dei sentiment, delle sensazioni, delle offerte che stanno dentro i pc dei tuoi commerciali. Tu devi avere un tool che ti dice tutto senza parlare con i tuoi uomini, poi i tuoi uomini li sentirai per fare l'analisi qualitativa del momento commerciale della tua azienda, ma tu devi avere i dati e in 4 click conoscere quelle poche informazioni fondamentali per la tua azienda. numero di lead, provenienza dei lead, numero delle offerte, numero dei contratti, conversioni tra questi parametri, fonte dei lead. Sono 4-5 cose fondamentali per avere il controllo del processo commerciale della tua azienda. Quindi usa un CRM, inizia a farlo, ci sono un sacco di strumenti nel mercato che possono esserti utili. Se proprio vuoi fare una partenza senza acquistare un CRM, parti da Excel, ma salva i dati per un'analisi puntuale del tuo processo commerciale.